Rieccoci di nuovo insieme in diretta con tutto Atalanta senza girarci tanto intorno so che non è una cosa prettamente di Roberto Spagnolo ma rappresenta la società nero-azzurra te la giro nella maniera cattivella con cui ce l'hanno scritto prima Zabata e Spagna che cerca squadra No, chiarisco, chiarisco Grazie Zabata ha avuto un infortunio due mesi fa è stato diagnosticato ha fatto il suo percorso di recupero poi nel recupero ha avuto una non è una ricaduta è stato un altro infortunio a una vecchia cicatrice che aveva quindi non si tratta di ricaduta un nuovo infortunio su una vecchia cicatrice lui ha espresso il desiderio di farsi vedere da un fisioterapista che aveva avuto a Udine quindi è stato accontentato e adesso confermo che mercoledì rientrerà completamente a posto per essere poi aggregato e rifare tutto chiaramente il percorso non di riabilitazione ma di preparazione deve ricominciare la preparazione però mercoledì torna in Italia mercoledì torna in Italia ma torna in Italia perché c'è la cena no perché è guarito ha concordato anche con quindi abbiamo detto allora adesso possiamo stabilire che Zabata è guarito perché è la seconda volta noi abbiamo detto chiaramente che d'accordo con il nostro staff medico d'accordo con lo staff che ha lui là in Spagna che doveva tornare dopo questa seconda volta doveva tornare completamente guarito per essere messo a disposizione dell'allenatore quindi mercoledì torna non si ferma a vedere una partita del Valencia visto che non c'è via no 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 abbiamo chi va ma è a Valencia o a Siviglia? no a Siviglia ah ecco no 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 chiaro perché qualcuno lo detta che questa cosa chi l'ha detto che è completamente guarito? allora noi è chiaro che lo stiamo monitorando avete là un collaboratore? certo noi abbiamo là un collaboratore che segue prima fisioterapista e adesso invece preparatore atletico chiaramente per seguire questo tipo di lavoro che sta facendo ma anche a livello medico quindi il nostro medico è costantemente in contatto con lo staff medico lì di Siviglia il quale a sua volta è in contatto con Barcellona con Cugat e con una struttura a Roma che è quella di Mariani esatto quindi è completamente sotto osservazione quindi questo pool di cose ci stanno dicendo che quando torna mercoledì nel giro di due o tre giorni alla ripresa diciamo della preparazione lui può essere aggregato perché è chiaro tra qui e la ripresa dopo la sosta natalizia lui dovrà lavorare chiaramente per portarsi perché dalle parole di Gasperini trapelava qualche preoccupazione dalle ultime parole di Gasperini nell'ultima conferenza stampa insomma ha detto io spero sì dico speriamo allora è chiaro che la muscolatura di Zappata non è una muscolatura normale quindi è questo quello che preoccupa un po' un po' tutti no? perché come dicevo prima non essendo stata una ricaduta ma un nuovo infortunio su una vecchia cicatrice questo ha preoccupato un po' quindi oggi abbiamo diciamo che abbiamo optato per allungare un po' ma per avere la certezza che muscolarmente il ragazzo potesse poi fare tutto quello che deve fare per rimettersi in condizione la Spagnola non fa il medico ma quando Zappata potrebbe rientrare in campo dopo aver fatto tutto il percorso cioè è credibile che per esempio la prima partita di gennaio col Parma possa essere a disposizione o non è pensabile? non lo so e non voglio dire delle cose che possano poi suscitare o delle aspettative che non sono io direi che abbiamo pazientato fino adesso vediamo di metterlo in campo quando è a posto sì mettendo anche in preventivo che poi c'è comunque una fase di rodaggio quando rientra non è che spacca tutto esatto anche con quel fisico ecco perché bisogna avere pazienza vabbè comunque già una buona notizia ce l'hai data che torna in Italia che tornerà ad allenarsi e che è guarito soprattutto quindi passa le vacanze natalizie qui? sì o se ne va colombiano? no 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 deve rimanere per portare avanti il discorso senti invece dell'altro colombiano che ci dici? cose di ottima salute anche troppo forse no la domanda è perché sui social anche nei sottopancia tutti si domandano perché obiettivamente il rendimento del ragazzo alla lunga può quasi quasi essere considerato vagamente deludente nel senso che ha fatto i suoi gol soprattutto il suo rigore sì però 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 rispettavi di più sì ecco ma io dico una cosa che lui è stato anche penalizzato dagli infortuni degli altri perché chiaramente un conto è avere a fianco dei giocatori importanti come abbiamo noi e quindi lui è stato un po' penalizzato poi quello che noi abbiamo notato ma che poi un po' la storia di Muriel no lui quello che riesce a recuperare e quindi anche fisicamente anche sotto l'aspetto tecnico fisico e tutto lo perde nella settimana e dieci giorni che va via con le nazionali e quindi bisogna ripartire ancora in questo senso questo è il grosso problema di Muriel di lui quindi direi che non possiamo dire che è deludente perché comunque è un ragazzo eccezionale è un ragazzo che dà tutto anche i numeri sono buoni anche i numeri sono buoni è chiaro che purtroppo lui quando va via con la nazionale poi deve avere un periodo di recupero che retrocede rispetto a quello che era quindi non riesce a fare il salto auguriamoci che vada via però se penso comunque a tutti questi anni di Muriel Lecce Fiorentina Udinese Sampdoria Siviglia rischia di diventare una vecchia giovane promessa perché ogni volta gli manca sempre il salto di qualità è vero ha fatto nove gol è vero molti su rigore però Cesare già averne uno che tira i rigori nell'Atalanta poi è importante però le prestazioni le prestazioni in Ucraina e col Bologna non sono state positive è un'eterra incompiuta senza andare a parlare come fa qualcuno di svogliatezza che non c'entra niente perché il ragazzo non è svogliato il ragazzo se sbaglia la prima palla finisce una valle di lacrime se segna la prima cosa prima di fare una bella cosa si esalta ma non è che lui è svogliato ha delle reazioni positive sempre lui è un ragazzo positivo che anche nello spogliatoio è importante è ben voluto però se devo anche aggiungere una cosa diciamo che lui quest'anno con Giampiero sta utilizzando in modo diverso anche come ruolo perché lui lo vede come prima punta e quindi questo anche questo è considerare e io credo che col tempo questo ragazzo diventi veramente questo giocatore riesca a fare quel salto anche perché Gasperini ha già dimostrato che quello che sta quello con cui lavora sul campo poi dà dei risultati quindi lui oggi sta soffrendo anche un po' questo perché lui ha sempre giocato come punta esterna oggi Gasperini lo vuole là come prima punta ecco poi magari alcune ingenuità come è successo contro lo Shakhtar quel fallo che abbiamo rischiato l'espulsione sono passaggi un po' fuori l'espagnolo era in panchina ma si era girato dall'altra parte non l'ha visto giusto sono salista però quelle lacrime a fine partita in Ucrania le abbiamo viste le lenti a contatto sembrano sempre perché è chiara sono gli occhi vicini per le lenti a contatto no ma poi non c'era poi tanto freddo si hanno dipinto questa cosa come una trasferta da meno 15 invece no ma che no era come a Bergamo c'era un po' di umidità per la nebbia leggermente e mi gira il coltello nella pianta soprattutto per chi non è atterrato vabbè non vi rispondo più cambia un cartofone ma tu pure eri con loro anche tu si però mi ha fatto 7 ore in pulmi nel mezzo della steppa perché dovevano scrivere giustamente e quindi cosa vede Kiev 5 comode ore di treno sono rimasti a Kiev a scrivere ma scuse perché non avete fatto altrettanto perché non dovendo scrivere ma volendo arrivare prima possibile per motivi televisibili sul posto a verificare e vedere siamo ripartiti prima il giorno dopo siete andati ah ho capito loro hanno fatto un'Ucraina a cost to cost ho capito vorremmo di vedere Basilicata a cost to cost insomma è un po' come il film no no lo so io vi ho seguiti su Facebook insomma soprattutto quei due autisti ucraini che non parlavano una parola né di inglese né di nient'altra lingua lì è stato un momento difficile torniamo a bomba però Roberto Spagnolo ci credono nella sostanza te la faccio breve il cronoprogramma dello stadio che ultime novità ci sono parto dalla prima cosa avete sistemato definitivamente tutti i lavori della curva nord anche all'esterno e della facciata di Viale Giulio Cesare la famosa lamiera che doveva essere applicata e risolvere il problema con eccola qua con la sovrintendenza quella sotto quella nuova quanto abbiamo di trasmissione ho visto che ho dato l'orologio eh quanto abbiamo di trasmissione dimmi a che punto siamo no beh è semplice questa è la lamiera che dovrebbe essere applicata sopra sì questa qui è la sovrastruttura noi dovremmo abbassarla di un metro e mezzo no perché proprio la linea bassa è quella di abbassamento della sovrastruttura quindi noi eh oggi giusto oggi a mezzogiorno abbiamo avuto un incontro con i fornitori perché non è semplice poi avere tutto questo questo materiale però anche se nell'ultimo nell'ultimo verbale c'era stato imposto di finirlo per la fine di dicembre noi purtroppo oggi con questo incontro con i fornitori non riusciamo a avere il materiale quindi andremo alla fine di gennaio o metà febbraio per completare per completare l'opera però questo credo che sia sia superfluo dirlo perché comunque va completata e va completata conforme quello che c'è stato richiesto dalla sovrintendenza facciata laterale le due facciate laterale perché riguarda anche la facciata della tribuna principale eccola qua questa inquadrata tanto per intenderci il cui colore non è andato come vi aspettavate non farmi dire delle cose che non posso dire il colore allora l'identificazione del colore è un RAL il nostro è un RAL però è chiaro non dire parolacce come un RAL no RAL sta per l'indirizzo erano dal 1035 quello montato è un RAL 1035 certificato purtroppo non ha dato l'effetto visivo che si aspettava e quindi siamo venuti incontro alle esigenze sia del comune che della sovrintendenza milioni di euro in più che mi dicono molto precisa la sovrintendenza molto precisa beh qualcosina in più però di spesa c'è da fare ah beh sicuro perché questa costruttura qualcosina in più costa quanto? 2 milioni? no non siamo a quei livelli comunque sono circa 200-300 mila euro in più in più che non erano in preventivo per non erano in preventivo per rifare si mette una lamiera sulla lamiera giusto? si perché questa qui è soggetta anche alla risultanza acustica quindi è già insonorizzata rispetto quindi sarebbe molto più costoso smontare e rimontarla quindi abbiamo optato per una copertura esclusiva di lamiera prossimo step tribuna Ubi quali sono le tempistiche quali lavori farete? allora come ho già avuto modo di dichiarare più volte se sarò ancora io a portare avanti questo discorso visto che perché ti licenziano non credo può essere va va cosa vuoi che ti licenzi? visto che beh mi è piaciuto bellissimo questa chiarità lì l'ho messa giù dura ma anche tu io? toccata piano sì sì stai vai noi siamo soggetti ma tu ormai sei un'istituzione ma chi te muove te? sì ma te l'ho detto tante volte probabilmente mi faranno un monumento però attenzione lo dico in bergamasco di pasta consa che tutti quelli che passano danno una sforchettata è un po' è un po' cedevole insomma è una cosa sottorrà il 1035 sottorrà il 1035 perché quella lì non l'ho bevuta non è andata giù va beh detto questo allora noi cercheremo di fare il più possibile per non dare comunque criticità alla squadra e quindi vorremmo rimanere nei tempi della sosta quindi questo appena finito il campionato ci metteremo all'opera sarà l'intervento sulla Giulio Cesare settimana scorsa a livello progettuale abbiamo definito l'architettonico quindi abbiamo avuto l'ok della proprietà sulla parte architettonica questa settimana conto di di mettere assieme la squadra di strutturisti e quindi impiantisti eccetera per poter poi procedere in parallelo per la fattibilità di questa opera architettonica quindi direi che noi per fine febbraio potremmo avere già il permesso costruire quindi e quindi essere pronti quindi poi con gli appalti e tutto per poter iniziare appena finito il campionato ecco quello che ci tengo magari so che è molto presto per il cronoprogramma non siamo neanche a Natale eppure già si parla di maggio-giugno volevo capire se nei vostri piani quindi c'è l'idea di non spostare questa volta il pubblico ma di iniziare stagione finita e di essere pronti per l'inizio dell'altra sicuramente non andremo a chiedere di uscire prima quindi di iniziare prima e uscire quindi sicuramente e poi se tutto va bene ma il cronoprogramma sarà improntato su questo iniziare con con il campionato a Bergamo che lavori dovete fare nella sostanza ma in sostanza dovremo abbattere tutti i gradoni della Giulio Cesare e rifare lo shed per ampliare lo spazio dei gradoni e quindi sono opere abbastanza importanti e lavorare poi sulle infrastrutture dove andremo a creare delle nuove ospitality e poi degli aggiustamenti sulle due laterali cioè verso la curva nord e verso la curva sud in quegli spazi che voi vedete che sono aperti quindi stiamo ragionando in questo senso per poter recuperare qualche posto sia in curva che in Giulio Cesare copertura visto che molti stanno chiedendo no copertura in questo momento purtroppo come ho avuto già modo di dire il piano tottivo è stato provato con questa copertura quindi noi è chiaro che ci ragioniamo e quando dicevo appunto che questa settimana conto di individuare già lo strutturista che ci seguirà in questa opera sarà proprio anche quello di cominciare a ragionare sull'eventuale possibilità non fattibile in questa fase però della copertura di un allungamento della copertura o di una sostituzione addirittura della copertura però come ripeto non in questa fase perché noi oggi non avremmo neanche i tempi tecnici per poterlo fare uno perché il piano tottivo è stato provato così quindi non c'è possibilità ci vorrebbe ancora un anno e mezzo per la nuova approvazione e secondo perché volendo rimanere nei tempi di sosta del campionato per non penalizzare la squadra non ci si potrebbe fare curva sud curva sud è tutto uno studio adesso ci stiamo concentrando su questo ma subito dopo parleremo della sud perché la sud è un problema perché non c'è solo la sud ma c'è anche la contemporaneità del parcheggio interraneo quindi raddoppiano i tempi rispetto alla Pisani raddoppiano i tempi rispetto alla Pisani e quindi lì bisogna capire cosa fare si potrebbe si potrebbe ipotizzare anche lì di qualche cambio perché purtroppo noi avendo sempre il piano tottivo che ti obbliga tra virgolette a fare anche le opere di urbanizzazione e quindi il parcheggio interrato è un'urbanizzazione quindi una volta fatta la parte privata devi fare anche la pubblica altrimenti non hai legibilità e non hai permesso di poter giocare quindi l'unica soluzione potrebbe essere capire se studiando col comune la possibilità di fare prima uno e poi un prossimo lato la vedo difficile però ci stiamo lavorando come si dice a Bergamo te la metto giù dura un anno lontano da Bergamo o bloccare metà dello stadio in pratica perché poi alla fine sicuramente un anno lontano da Bergamo no perché non è nella nostra indole ma soprattutto la proprietà non ci pensa lontanamente a andare via da Bergamo ma perché anche in quella zona c'è anche il settore ospiti per intenderci è un altro problema ma no ma i problemi sono una miriade con questa ristrutturazione perché c'è problema di illuminazione non dimentichiamoci che nell'abbattimento c'è altre due torri l'illuminazione verrà completata con le travi le americane ma quando c'è la quindi è complessa quando avrai finito le curve poi metterai l'illuminazione esatto che però è compreso nell'intervento sulla sud per intenderci le famose americane che daranno l'illuminazione quindi lì poi c'entra anche il discorso dell'altezza eventuale tribune cioè è complessa il discorso della sud come dico bisogna ragionarsi bene perché le due ipotesi giustamente come dici tu sono o andare via un anno ma non è pensabile oppure quella di giocare con tre settori ma anche perché se l'ipotesi fosse andare via un anno conveniva iniziare subito così e facevi un anno tutto quanto allo stadio esatto per sgombrare altri pensieri perché l'hanno chiesto perché è una domanda magari facile ma poi sono quelle che si fanno tutti l'Atalanta in caso dovesse qualificarsi per una coppa europea anche per l'anno prossimo quindi dopo che sono anche terminati i lavori per la tribuna Ubi potrebbe avere l'agibilità per giocare una coppa alla coppa a Bergamo quindi facendo il secondo step dei tre dello stadio è pensabile che si possa giocare con l'Europa League o la Champions a Bergamo? Allora l'Europa League si potrebbe anche ipotizzare di farla andando a sistemare comunque mettendo i seggiolini sulla sud quindi si potrebbe ipotizzare come Europa con un intervento tampone diciamo pensato con un intervento tampone sì la Champions no perché comunque abbiamo visto anche quest'anno che la Champions non è tanto un problema ai seggiolini ma un problema di spazi esterni ma se la ristrutturazione è completata è chiaro che stiamo lavorando per cercare di avere quei minimi indispensabili per poter avere la possibilità di giocare la Champions anche a Bergamo e comunque sono tante richieste quindi anche nel completare tutta l'opera dovete proprio stare attenti ai particolari perché le richieste sono tantissime posso fare solo un esempio che potete capire cioè San Siro sapete benissimo com'è collocato quindi in Champions San Siro ha dovuto predisporre una tenso struttura all'interno di San Siro dello spazio di San Siro per le hospitality che richiedono quelli della Champions quindi una tenso struttura a San Siro è stata possibile farlo e beh c'è a Bergamo io non vedo gli spazi questo per farvi capire fammi solo capire i numeri perché la gente chiede l'hospitality ma quanta gente ci va in hospitality ecco quali sono le richieste perché non si chiede chi ci va l'hospitality della Lega sono migliaia di persone tanto per avere un'idea perché magari da casa pensano tutti gli sponsor voi sapete benissimo che noi a livello di Champions non abbiamo sponsor nostri ma sono tutti Champions europei e loro devono dare la possibilità di avere a questi sponsor le varie hospitality ma io voglio avere questi spazi all'interno delle varie partite e come ripeto a San Siro c'è una tenso struttura all'interno che penso che l'abbiate vista anche entrando si vede va bene ci fermiamo per qualche istante di pubblicità poi ancora in diretta con tutto Atalanta tra poco musica 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 musica